Assessore Casali, la piazza antistante del Museo Civico Garda è stata allestita appositamente per la mostra della collezione Olivetti? Sì, esattamente. È stato studiato un allestimento appositamente per la mostra, proprio perché si voleva dare un impatto forte anche di quello che stava capitando all'interno del museo. L'allestimento è stato studiato mettendo sotto il timpano centrale la figura di Adriano Olivetti, di Camillo Olivetti, di Zorzi e di Soavi, che erano manager intellettuali, umanisti, uomini di cultura e che erano importantissime persone all'interno dell'Olivetti per quel che concerneva la cultura. È stato poi scelto di mettere tutte delle figure, dei profili di persone, bambini, donne, uomini, insomma, che guardano al centro della piazza, che guardano il timpano, proprio a guardare questi pilastri, diciamo così, della cultura olivettiana e a guardare anche il centro del museo, quasi ad invitare tutti ad entrare.